Complici la pioggia che non ha evidentemente invogliato ad uno struscio in piazza per lo shopping, la data, metà settimana e forse la voglia di vacanza più che di acquisti, l'esordio dei saldi, almeno a mestre, non sembra aver sortito effetti diversi da una normale mattinata. I negozi hanno allestito le vetrine con giganti percentuali al 50% in bella evidenza, con i più coraggiosi che si sono spinti anche fino al 70%. Una lusinga lettante che spesso per alleggere bene i cartellini sul singolo prodotto riduce lo sconto al più timido 30%. Il 70% solitamente si registra a fine stagione dei saldi quando i commercianti liquidano tutto quello che è rimasto. Ma se una rondine non fa primavera, tanto più poche ore dall'inizio di quello che è quasi un rito sociale, non possono dare la giusta dimensione dell'approccio che avranno gli italiani, nordestini in particolare, di fronte alle promozioni. Promozioni che peraltro, grazie a tessere e fidelizzazioni, durano un po' tutto l'anno, ma i cartelli con le percentuali affissi alle vetrate inducono a comprare, soprattutto coloro che solo in questa fase possono permettersi quel capo in più, quella scarpa tanto desiderata, ora accessibile o quasi alla portafoglio. La merce in saldo è comunque quella della collezione 2023, almeno per ora. Il clou è atteso per il fine settimana e si sa che nei centri storici c'è la maggior sofferenza. Ancora tante e troppe le vetrine con i cartelli vendesi e affittasi a perimetrare esercizi desolatamente vuoti ed abbandonati.